Terzo premio di tromba categoria B, Eugenio Valle. Eseglierà il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. Il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini. il secondo e terzo movimento dal concerto di re maggiore di Giuseppe Tartini.